Il nuovo seminario online di Giorgio Rossi, I sentieri della luce, partirà il 13 ottobre dalle 20 alle 22, ogni venerdì per 22 incontri. Per info e prenotazioni rimandiamo al link sotto al video in info box e nella sezione visualizza i prodotti, oppure nel nostro shopping online www.cavoresoterica.it Steiner parla di questo, parla del significato occulto della Pentecoste, non solo della festività, ma proprio dell'evento pentecostale, riferendosi a un testo segreto tenuto nelle stanze addette delle biblioteche vaticane. L'unica copia esterna, lui la riferisce in possesso al famoso conte di Saint Germain, dopodiché chi vuole accedere deve avere la capacità di chiaroveggenza per poter leggere nella luce estrale questo testo. In questo testo è raccontata una storia spirituale dell'uomo, che non è quella ordinaria appunto, in cui questo evento che poi verrà narrato nei Vangeli ha una valenza estremamente elevata, anzi lo considera il massimo mistero della cristianità. Come lo spiega? Lo spiega facendo riferimento alla origine preterumana, questo è un particolare molto importante, dell'uomo stesso, cioè l'uomo spirito, prima ancora di manifestarsi in un corpo fisico, assumendo in sé l'intera teplicità appunto di spirito, anima e corpo, condivide una parte della sua esistenza insieme ad altre potenze, di cui abbiamo anche parlato. Salve a tutti, buona giornata. Oggi riprendiamo il testo di Rudolf Steiner, sui simboli misteri, per una sua conferenza particolarissima. Premessa, Rudolf Steiner, di cui parliamo, è quello antefondazione della società antroposofica, che è un periodo molto fecondo, molto importante per le sue conferenze, perché diciamo che lui si esprime a braccio, liberamente, su tanti temi esoterici importanti, ma che è anche il periodo in cui massimamente tante organizzazioni, dalla società teosofica, al rito egizio massonico, alle varie fratrie dell'epoca, si rivolgono a lui per farsi spiegare quello che dovrebbero insegnare loro, o per conoscere aspetti veramente profondi, molto profondi, delle dottrine che pure fanno parte di certi contesti. In questo caso lui parla del mistero, proprio nel senso tecnico, iniziatico, della Pentecoste. Fa una premessa di metodo, perché dice ciò che io dirò qui oggi, nota tra l'altro che il pubblico è molto scarso, e non è un caso, perché le cose non sono date a tutti, parlerà in senso mitico, un mito poietico, non in un senso logico, razionale. I riferimenti che farà non sono quelli antropologici o storici, ma veramente iniziatici. Ricordiamoci sempre che Rudolf Steiner parla da uno stato di coscienza non ordinario e agisce attraverso il suo dire mediante impulsi, cioè le sue parole sono il veicolo di impulsi sovrasensibili. Chi ama l'antroposofia o comunque questo tipo di letteratura sa a cosa mi riferisco. Nel parlare della Pentecoste Rudolf Steiner dice ci abbiamo un problema generale, ci sono tantissime feste anche religiose o ricorrenze particolari che vengono celebrate senza sapere il perché o il significato. E qui inizia con un preambolo che lascia, diciamo, chi non è abituato a questi linguaggi abbastanza così, sospeso, forse anche un po' sconvolto. Parla del significato occulto della Pentecoste non solo della festività, ma proprio dell'evento pentecostale, riferendosi a un testo segreto tenuto nelle stanze addette delle biblioteche vaticane. L'unica copia esterna, lui la riferisce in possesso al famoso conte di Saint-Germain, dopodiché chi vuole accedere deve avere la capacità di chiaroveggenza per poter leggere nella luce estrale questo testo. Ora, ovviamente questa affermazione oggi sembra un ipervole oppure un espediente letterario, mentre invece va compreso come una capacità dello spirito connesso con il mistero originale. Poi ognuno si può fare ovviamente le sue idee, le sue concezioni, ma Steiner parla di questo e dice che in questo testo è raccontata una storia spirituale dell'uomo, che non è quella ordinaria appunto, in cui questo evento che poi verrà narrato nei Vangeli ha una valenza estremamente elevata, anzi lo considera il massimo mistero della cristianità. Come lo spiega? Lo spiega facendo riferimento alla origine prete romana, questo è un particolare molto importante, dell'uomo stesso, cioè l'uomo spirito, prima ancora di manifestarsi in un corpo fisico, assumendo in sé l'intera teplicità appunto di spirito, anima e corpo, condivide una parte della sua esistenza insieme ad altre potenze, di cui abbiamo anche parlato nel video sui dei. con quelli che chiama Deva, esseri di luce, i luminosi, gli splendenti, successivamente con i Asura, che vengono dopo, e questo suo preambolo è molto importante per le conseguenze di cui abbiamo riferito, parlando, non so, delle sirpi celesti, terrestri, caino e abele, della formazione degli spiriti che da una parte sono antagonisti, da una parte sono interessati alle vicende umane, quindi gli spiriti luciferici e gli spiriti alimanici. Prendendo un'espressione evangelica, in illo tempore, o nello zeptepi potremmo dire, all'epoca della terza età, il passaggio tra l'età lemuriana e l'atlantidea, secondo la vulgata teosofica dell'epoca, queste potenze si interessano dell'aspetto denso della manifestazione, quello che noi oggi chiamiamo il nostro mondo, che è un processo in formazione, dove si arriverà alla massima densità dell'elemento spirito. Gli uomini seguono una progressione discendente dallo spirito all'anima, dall'anima al corpo, in un corpo inteso come manifestazione fisiologica di ciò che è, usando il termine indiano, è tamas, è densa e pesante, quindi da sattua a rajas a tamas, evolvendo una struttura che sarà in grado di sopportare il peso dello spirito. Per questo c'è anche questa grande densità, abbiamo passioni, desideri e tutto il resto. Ci vuole un grosso contrappeso per reggere la discesa dello spirito. Le altre due categorie, una ascritta principalmente alla civiltà egizia, indiana e mesopotamica, in parte e greca, dei Deva, e l'altra stirpe, degli Asura, che lui riferisce come area di formazione all'area iranica fino all'Europa, le famose dottrine arie. i Deva sono un po' dei furbastri, mettiamola così, cioè seguono il processo di discesa dello spirito dell'uomo e lucifericamente cercano di sedurlo affinché possano tra virgolette affiancarsi, sono un po' come gli imbucati alle feste per capirci, perché non vogliono pagare prezzo di questa discesa ma vorrebbero ottenerni vantaggi. I Asura invece che si formano appunto nell'area iranica non sono interessati all'aspetto spirituale ma al potere, al controllo sulla materia. A loro interessa quello, non interessa lo spirito. Entrambi sono antagonisti tra di loro proprio per la diversa modalità con cui manifestano la loro volontà di partecipare a questo evento che è la manifestazione completa del piano terreno e dell'umanità. Iuni, i Asura cercando di asservire gli uomini col potere, con la sopravvazione e anche con la prepotenza in un certo senso facendo gli schiavi dei loro desideri e gli altri neva invece che sapendo che la luce che loro portano discendendo si può estinguere, usando un termine buddista potrebbero perdere i loro meriti, non vogliono sperimentare questa corporeità ma utilizzare il lavoro degli uomini, la produzione di luce degli uomini per i loro fini, cioè per rimanere diciamo in sella, rimanere nella loro posizione. Però come si fa? Il processo della discesa comporta delle responsabilità. Diciamo che una prima schiera accetta di discendere dagli uomini potremmo dire in spirito di sostegno e di servizio, non tutti sono diciamo degli approfittatori e sono la stirpe degli adepti, degli iniziati, non nel senso specifico a Steiner che oggi si dà questa parola ma di coloro che iniziano a lavorare su questo piano a fianco all'uomo. Un'altra parte invece sono i furbastri che dicono ma scusa ma perché me devo mettere a faticare insieme agli uomini o sostenerli cerchiamo di ottenere questa forza luminosa da loro di farci adorare da qui nascono molti culti in modo che loro ci trasferiscano questa energia. C'è problema? Gli uomini creano un piccolo problema nel mito greco di Prometeo uno di loro il capostipite dei ribelli decide di prendere addirittura d'assalto il tesoro di luce degli dèi e portarlo agli uomini esattamente al contrario in queste dualità ritroviamo tutte le redazioni religiose da quella mesopotamica la lotta tra El Enchi e Elil tra Yahweh e El il dio della luce piuttosto che Aura Mazda piuttosto che Ariman e così via cioè queste dualità mitologiche religiose rivelano sempre questo conflitto quindi noi abbiamo sul teatro Yasura dediti sulla materia ok i primi adepti iniziati Deva che sono favorevoli all'uomo farlo evolvere un altro un altro gruppo di Deva che invece non si interessa di questo ma vuole solo predare ok ma perché se si trattasse solo dell'energia luminosa che comunque il tema fondante devono contenderselo con l'uomo se lo devono contendere con l'uomo perché l'uomo completa tutto il processo fino alla corporificazione degli spiriti come si dice in alchimia e quindi ha il potere di spiritualizzare i corpi trasfigurarli e trasformarli senza questo processo non si può riprendere l'intero potere per questo si lotta con gli uomini si cerca o di abrutirli Yasura o di predarli Deva ok l'uomo fa questo perché ha in sé il più alto mistero quello della libertà e della autocoscienza il premio in palio è la libertà e l'autocoscienza che senza completare il processo di discesa anche nell'incarnazione nella prova nel dolore quello che volete non si può realizzare problema grosso grosso specialmente per i Deva erano abituati a fare le loro comparsate apparivano i grandi saggi i rishi i yogi o i profeta davano i loro messaggi quelli che fondavano le religioni era fatto il giochino mentre invece l'uomo prometeo dice no io non servo a nessuno dei due servo a me stesso perché io ho in me la potenzialità totale di realizzare l'intera evoluzione di tutti i mondi di tutte le esistenze in buddismo si dice solo chi possiede la perfetta e preziosa rinascita umana può divenire un buddha quindi non essere nato tu cur uomo donna no avere questo ricordo ancestrale questa scintilla già accesa no che gli darà la possibilità attraverso l'incarnazione di riconnettersi alla fondo e risalire e tornare all'origine questo è il significato occulto ma fino a un certo punto perché nell'agnosi negli gnosticismi non c'entrano niente l'agnosticismo è un fenomeno storico una serie di ipotesi di frazioni di conoscenza ma l'agnosi è un unico stato di consapevolezza trascendente che attraverso tutti i secoli millenni e che nella Pentecosta trova il massimo mistero di realizzazione perché il sacrificio del Cristo che consuma tutto quello che è l'uomo carnale prima nel sacrificio pasquale nel sacrificio di natura la redenzione degli elementi e dell'uomo diciamo ordinario poi poi nella trasfigurazione nella Pentecoste e nella effusione di spirito Steiner infatti ci dice che solo la triade superiore quella che è chiamata teosoficamente Atma, Bundi a Manas che può essere padre, figlio, spirito santo che non è la Trimurti indiana chiariamo sta cosa perché ultimamente queste stupidaggine vanno in giro veramente da tutte le parti quella trinità che è soffio acqua e sangue come dice anche la pistis e sofia può rendere l'odio al padre cioè può reintegrarsi nell'assoluto in questa puntata domanda scritta qual è la spiegazione di questa frase di Maester Eckhart c'è qualcosa nell'anima di increato ed increabile se tutta l'anima fosse di tal genere sarebbe increata e increabile e questo è l'intelletto meravigliosa continua nei contenuti per abbonati integrarsi nell'assoluto nel pleroma usando un termine agnostico per farlo deve giocoforza accendersi infiammarsi ha bisogno di un elemento fuoco che cade sugli apostoli nel giorno da Pentecoste che ottengono tantissime qualità Steiner accenna al dono delle lingue inteso per esempio uno dei significati come capacità di colloquiare intendersi dialogare con qualsiasi tipo di essere portandolo poi al risveglio quindi non è una cosettina da poco questo fuoco che discende fa divampare il fuoco latente laddove sia presente quindi non negli uomini lo custa con buona pace di chi gli piacciono tanto in modo che l'entusiasmo mentre il dio fuoco il dio zolfo dentro di vampi e provochi l'esaltazione dei veicoli da quello fisico a quello animico a quello spirituale quindi corpi sottili animico intendo questo fino a ripetere l'apoteosi cristica cioè un'umanità che ha compiuto questo cammino si è totalmente cristificata questo è lo stadio sommo di evoluzione qui non è un evento da celebrare così ma oggi c'è sta festa ok no ma prendendo su di sé questo fuoco per farlo divampare come veicolo ripeto della autocoscienza totale su tutti i piani e quindi della libertà dell'uomo da tutti i tipi di soggiacenza Steiner fa un'altra semplice attenti quando i deva come nella mitologia greca vi mettono nel paradiso terrestre in uno stato di trans e di sonnambulismo di incoscienza stai buono ti do da mangiare come un animaletto basta che sta lì e non dai fastidio anche nei miti biblici è così ci vuole chi ci vuole il serpente che vi tenta lo spirito luciferico che tenta l'uomo lo fa cadere ma perché lui lo deve seguire per forza in quella discesa perché solo l'uomo né gli spiriti luciferici né gli asura né i deva né i semidei quello che volete ha il potere di fare quello che fa l'uomo l'uomo è l'unico che ha essendo la sintesi delle potestà create se vogliamo usare questo linguaggio la capacità di accendersi infiammarsi e risalire perché i deva fanno un po' fanno un po' a muina no? si direbbe a differenza degli asura che si sono buttati subito ci interessa la materia adesso non ci riguarda a differenza a differenza dei primi di loro della prima discesa attenti si parla di due discese di leva in cui si assume anche l'onere come adepti iniziati della prima schiera di evolvere insieme all'uomo non di predarlo il secondo scaglione per così dire aspetta aspetta di vedere come vanno le cose quando vede che c'è materia interessante e sottolineo materia scendono è il passo biblico in cui i figli del cielo vedono che le donne della terra erano belle e si uniscono a loro quella è la seconda discesa non è la prima portano dei regali e conoscenze per esempio esoteriche astrologia la magia l'alchimia la scienza della coltivazione del pane e del vino tutta questa cesta di regali per farsi cultuare adorare come se fossero l'unico punto di riferimento instillando poi un conflitto una lotta di classe diciamo tra Asura ed Eva i seguaci degli uni odiano gli altri e in questa divisione il potere di queste gerarchie prospera e per questo non se ne può uscire senza l'evento del Golgotha cioè il Logos prende una forma umana scende e spacca questo giochino infatti si dice che Cristo scendendo distrugge un terzo delle potenze cioè apre un varco in cui l'uomo può trovare la possibilità della sua evoluzione come essere libero e autocosciente quindi liberandolo dal gioco materialista asurico dall'illusione devica dei buon pastore state buoni nell'Eden non date fastidio tranquilli ma lui dice guarda che tu sei me quel fuoco pentecostale è la riunione con la potestà luminosa iniziatica indiante e potente dell'uomo con la sua fonte spacca proprio l'astrale in due parti è come un mosaico che divide le acque scende quel raggio e porta appunto una pentecoste porta una pioggia di fuoco che attraverso gli apostoli che poi viene inviata nel mondo c'è un altro aspetto da considerare molta parte dell'umanità non è interessata a questo assolutamente sta nel Lappone sotto il simbolo di Epimeteo che rifiuta la libertà che rifiuta di rischiare non si sa mai stai buono ma che stai a fare prega stai buono a cuccia che non devi disturbare il manovratore e Prometeo che nel mito di Giafratello gli dice no guarda che non funziona così tant'è vero che Epimeteo è quello che riceve il vaso di Pandora da Giove perché Giove dice qui se gli uomini sei libero noi mangiamo più allora ti do sto bel regalo anch'io la famosa carità pelosa un bel vaso di Pandora oppure le scienze occulte quello che vuoi vari tipi di giocato l'importante è che siate buoni e non cerchiate di liberarvi dal nostro potere lo stesso Prometeo ha bisogno di una forza sovrumana per essere liberato dall'incatenamento sulla roccia dove viene tormentato dall'aquila che gli divura il fegato il fegato astrologicamente è Giove tanto per capire perché il gran benefico come lo chiamano gli astrologi non è vero che è così per essere anche il gran malefico perché se uno che ha il diabete gli fate mangiare le paste tutti i giorni sono tanto buone ma muore no? quindi attenzione l'ho detto tante volte agli dèi ai doni che promettono no? hanno il loro ruolo per carità vanno rispettati però è sempre appunto una carità per le uso perché è finanziata scusate finalizzata a farsi loro finanziare con la nostra energia umana ovviamente di chi segue il cammino spirituale in qualsiasi forma per mantenerli in sella l'uomo deve se vuole mettere la U maiuscola per così dire impegnarsi in questo cammino di autoliberazione lo può fare solo attraverso questa condizione perché solo qui ha tutto il materiale che deve essere poi alchemicamente immesso nell'atanor e arzo trasformato e trasmutato i dèi vanno solo spirito e anima ci vuole la materia il corpo il terzo gli alchimisti ammoniscono a non buttare via i resti del matraccio perché andranno poi riconvertiti anche quelli in luce steiner quindi da una lettura metafisica mitica mitologica ma ispirata attenzione dona degli impulsi attraverso questo scritto perché le persone non si facciano rubare la propria pentecoste quindi è molto molto importante come scritto questi aspetti di steiner maestro dei misteri sono estremamente importanti perché poi quando fondata la società antroposofica è stato assorbito dal lavoro per tenere in vita la sua creatura ma quando aveva le mani libere tra virgolette ha dato degli insegnamenti che riguardano i veramente più profondi misteri esoterici quindi va conosciuto per questa ragione qua la luce e il fuoco sono due elementi luce e il fuoco pentecostali sono stati recuperati potremmo dire ripresi purificati riportati alla loro origine trascendente celeste proprio dal Cristo in alcune apocalissi ignostiche ha spiegato che gli stessi spiriti che servivano il demiurgo compresi i famosi sette arcangeli che tutti stanno a sminestrare la mattina e la sera erano venuti giù con Lucifero ma sono stati così furbi che quando è sceso il Cristo come anche Leone e Sofia nel mito fondante dell'agnosi hanno detto oh 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 abbiamo fatto una grossa stupidaggine abbiamo peccato di orgoglio quindi si sono riconvertiti riconsegnando al tesoro di luce quel fuoco che erano venuti a predare quel fuoco purificato trasformato dall'evento del Golgotha è la materia dell'evento pentecostale l'uomo deve generare il Deva dentro di sé evolvere il Deva che ha creato o leone potremmo usare con termine diciamo ermetico e ricollocarlo nella sua dimora celeste ma come spirito libero luminoso non soggetto a nessuna potenza del mondo intermedio San Paolo stesso lo dice la nostra lotta contro le potenze dell'area igienica e anche gli angeli lui lo dice molto chiaramente essendo venuto in contatto sicuramente in Grecia con l'agnosi ci sono dei bellissimi studi di Elen Pengert su questo che purtroppo non si trovano più comunque c'è questo dato lui ha capito benissimo come stavano le cose ci sono altri scritti di Steiner che se potremo esamineremo proprio su questa figura una cosa è Paolo di Tarzo il propagandista che ha inventato tra virgolette cristianesimo moderno l'altra era quello che invece aveva capito molto bene molto bene come stavano le cose e ha dato delle indicazioni abbastanza precise quindi Pentecoste come festa della liberazione dell'uomo Pentecoste come festa della ignificazione dello spirito né l'uomo né la carne nei suoi vicoli sottili fino alla risurrezione completa della sua natura divina nelle più alte sfere di esistenza per questa è una festa importantissima grazie a tutti e alla prossima in questa puntata domanda scritta qual è la spiegazione di questa frase di Meister Eckhart c'è qualcosa nell'anima di increato e di increabile se tutta l'anima fosse di tal genere sarebbe increata e increabile e questo è l'intelletto meraviglioso 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 quell'uomo aveva aggiunto veramente la conoscenza dell'essere meraviglioso ha espresso in termini occidentali quello che è il concetto della natura ultima della mente nelle più alte visioni della Zocen del Tantra continua nei contenuti per abbonati la libreria Cavour ringrazia i suoi abbonati e ricorda a tutti che creare dei contenuti speciali in più è una forma di ringraziamento dovuto a chi ci sostiene visita la playlist dedicata per scoprire tutti i video extra